allora Pasquale a domanda risponde che succede da martedì 3 maggio per tutti i martedì dalle 20 in diretta sui canali social di Volver e su volver.it la so la so allora inizia il nuovo programma nuova scena nuova scena Volver Music Lab bravo Pasquale sei stato comunque abbastanza bravo che cos'è questo programma? E' un programma in cui noi raccontiamo i gruppi nuovi, la musica nuova ve li faremo conoscere, ve li faremo ascoltare soprattutto è musica fresca giovane che va ascoltata e va apprezzata e lo faremo anche con diversi ospiti dei giovani anche perché noi ne abbiamo bisogno, anche perché io e te da soli diciamo sinceramente non reggiamo la nuova scena, parla per te io me la cavo ancora, un ospite femminile a sorpresa che ruoterà settimana dopo settimana che ci renderà un po' più carini anche a noi tanti giovani che faranno le loro domande le loro osservazioni insomma la protagonista sarà la musica la musica e quindi vi dovete collegare sui canali social di Volver democraticamente e sul sito di Volver il martedì dalle 20 alle 21 e poi quando volete naturalmente per nuova scena Volver Music Lab la musica la musica della musica è da il sicuro l'uguote la musica il Grazie a tutti